Come capire che sei un coglione in amore? Allora, se vuoi capire che sei un coglione in amore, devi renderti conto di una cosa fondamentale, osservare come si comporta lei o lui nei tuoi confronti. Se ti sfrutta per qualche motivo, di solito le donne tendono a sfruttare da un punto di vista economico, se ha dei rapporti promiscui, cioè è zoccola diciamo, o se eventualmente un uomo è libertino, perché puoi essere coglione o cogliona, se diciamo non ti dà quello che vorresti, ma si pone arrogante nei tuoi confronti, se tu tendi a essere zerbina o zerbino, se questa persona diciamo ti manca di rispetto, nel senso che ad esempio ti tradisce, allora a quel punto lì potenzialmente sei un coglione, ma quando è che diventi coglione? Quando continui ha da ricredito a questa persona e poi tra l'altro quando questa persona si allontana e poi torna, se tu le raccogli, allora se la riaccogli sei doppiamente coglione. In questi casi l'unica cosa che devi fare è mandare un bel vaffanculo e poi se vuoi diciamo colpire più a fondo, fai un bel rituale di magia nera per chiudere la partita e almeno diciamo salvaguardi la tua dignità e riesci a canalizzare la rabbia per poter raggiungere a fondo il tuo obiettivo. Quindi devi tenere presente questo per non essere coglione, c'è solo un elemento fondamentale che devi salvaguardare nelle relazioni è la tua dignità e non devi permettere a nessuno di oltraggiare la tua dignità e ogni volta che la tua dignità viene oltraggiata devi porre rimedio, devi fare delle azioni che vadano a compensare questo oltraggio di dignità perché tu devi recuperarlo. Il recupero della dignità vuol dire recuperare autostima, vuol dire recuperare forza interiore e vuol dire non essere più diciamo per sempre, non entrare più in questi meccanismi, cioè imparare a sganciarti subito, quindi come dire la revenge, la vendetta tra virgolette è quel meccanismo che ti permette di evitare di essere cogliona o coglioni in amore e di superare questi diciamo vincoli, questi blocchi che potrebbero danneggiare la tua autostima e tu non devi permettere a nessuno o a nessuna di danneggiare la tua autostima. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ufficiali, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente Massimo Terramasco, crescita personale, felicità benessere, amore autostima. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao mi raccomando, abbonati anche ai canali, sui canali è anche possibile abbonarsi, abbonarsi è facile, on page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti. Ciao!